Il tracciato capitolino è un circuito reso velocissimo nella sua nuova configurazione che, per garantire spazio ai test di Formula 1, è stato allungato di circa un chilometro. Ora misura 4.085 metri che rispetto al recente passato piace ancora più a team e piloti. Senso orario, 13 curve, 8 a destra e 5 a sinistra e 3 lunghissimi rettilinei addolgiti da altre tanti semicurbe. Dopo il traguardo si affronta subito la curva grande per poi allungare fino alla staccata di Cimini, seguita dalla Viterbo che immette nel nuovo drittone. Staccata violenta per preparare la nuova Campagnano e su ancora con le marce fino alla curva Soratte che reintroduce alla vecchia configurazione. Siamo alla nuova trincea, molto più dolce rispetto al passato, che prepara la curva del semaforo. Si entra nella parte lenta del circuito che immette poi al tornantino. In uscita una insidiosa S per preparare la Roma, altro punto chiave del tracciato che riconduce al rettifilo del traguardo.